Ciao ragazzi, quest'anno con Star Casino Sport vogliamo festegnare in maniera speciale. Andiamo a trovare il nostro tifoso storico che manca da parecchio tempo a San Siro, quindi andiamo noi a casa sua direttamente. Andiamo! Eccolo! Grande Matic! Ciao! Come stai? Bene, tutto bene? Sì! Mi sono ricordato della prima partita che andai a vedere l'Inter, entrammo io con mio zio, che allora non c'era il terzo anello, e Mazzola aveva segnato da otto secondi. L'hai perso il gol? No, no, ho perso il gol, sì, ha vinto la partita, però da lì è stato un amore a prima vista. Ho seguito anche il Champions di una volta, quando c'era Burnic, Sarti-Facchetti, vabbè, la grande... La grandissima Inter. Noi siamo alla grande, quella è la grandissima. La grandissima, il grande gol di Peirò, di rapina. Post-to-post del Facchetti sul 3-0 Liverpool. Ne faceva abbastanza, eravate abituati. Sì, ma quello lì era stato un gol, era la Coppa dei Campioni, ragazzi. Tu prendi Suarez, il pallone che ti dava Suarez, non ce n'è nessuno. Né ancora adesso nessuno è capace di fare una cosa del genere. Te la mettevo sul piede proprio, tu devi solo andare in gol. Di tutti i ricordi, ne hai uno su di me? Mi è rimasta sempre impresso quella immagine dove tu eri commosso, insomma, avevi delle lacrime. Poi dal campo, non ti ha a conoscere le persone. L'ho fatto prendere la malinconia. La malinconia. Noi abbiamo dei regali per te. Li accetto veramente ben bonitieri. La maglia. Enrico, grazie. Il poster. Questo è però me lo firmi, anche questa. Sì. Il poster di Natale. La foto dei ragazzi. Star Casino Sport. Grazie mille. È stato un piacere immenso. È stato mio. Posso offrire un caffè per giù al bar? Volentieri. Grazie mille. Grazie mille.